Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi non sono molto felice perchè Il Big Ladro vuole Addio casa di Lorenz It's Big Ladro vs Big Vanilla Ecco il Big Ladro che fa il suo ultimo video di oggi Che non ha visto praticamente nessuno Perchè solo in 25 l'hanno visto Infatti lo vedrete anche voi Visto che volete tanto vedere il Big Ladro Ecco un video che ha fatto proprio lui Andiamo a vedere che cosa fa Perchè accena la casa di Lorenz Ecco E qua è nella casa di Lorenz Ragazzi Si è la casa di Lorenz Non mi è mai piaciuta Tanto la casa di Lorenz Quindi fa bene Non fa mai bene Dovrebbe Adesso mette la lava Ecco C'è un sacco di lava Ma questo Ragazzi Guarda Ma è creativa No ok Non è creativa Però Se lo fosse stato Mi sarei arrabbiato molto Adesso guardate L'inquadratura Che ci fa vedere Da qua Ecco lo fa apposta Poi A fare vedere questa inquadratura Ragazzi Guardate Guardate Ma Ok Allora Alle 15 Continua il video Ragazzi Quindi alle 15 Andremo a vedere Il continuo del video Tutti insieme In live Ragazzi appunto Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto Perchè voglio arrivare A 120 iscritti In due giorni Ragazzi È molto difficile Però Ce la possiamo fare E comunque ragazzi Se arriveremo A 1000 iscritti Entro un mese Cosa molto difficile Ecco Ci sarà una bella live Dove vi spiego un po' Tutto quello Che vorrei fare Con questo canale E con i prossimi canali E piano piano Ne parleremo Ma Queste sono cose Che ne parleremo In futuro Ok ragazzi Il video finisce qui Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Lasciate like A tutti i video E giustamente Per questo nuovo continuo Ma Che cosa c'entra Allora Insisto Vabbè Ciao